Night Express Hello, hello, hello amici belli, anzi bellissimi benvenuti questa è Radio 105, 105 Night Express come ogni giorno dal lunedì al venerdì in nostra compagnia Alessandro Sansone e Rebecca Staffelli Hello, hello Rebecca, Giovedì signò e Giovedì 6 Junio Giovedì, ricordate Marco Marzocchi, il comico di Zelic Giovedì, giovedì, sì adesso lo seguo su TikTok in realtà lo vedo tanto lì con la sua filippina come la chiama lui il Giovedì della filippina comunque è credibile che adesso la maggior parte dei comici per continuare ad avere una notorietà e comunque una carriera attiva debbano grazie a tutti grazie a tutti